Ciao, sono Fabrizio Delia e questo è Uncontrolled. È un podcast che rivive le esperienze più particolari degli artisti raccontate dai protagonisti. In questo episodio ascolterete le esperienze dei Santi Francesi, duo pop composto da Alessandro De Santis e Mario Francese. Precedentemente conosciuti come The Jab, nel 2016 hanno vinto il Liga Rock Park Contest aggiudicandosi l'apertura del concerto di Liga Bue a Monza e nel 2017 hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 hanno pubblicato Tutti i Manifesti, album totalmente autoprodotto che ha superato i 2 milioni di stream su Spotify. Nel 2021 hanno vinto Musicultura con il brando Giovani Favolosi. Ragazzi, Santi Francesi, raccontatemi di quella volta in cui... e mi fermo qui perché io non so nulla della vostra storia o delle vostre storie, mi è stato soltanto anticipato questo, quindi vi lascio raccontare, non so chi comincia per primo, vi lascio gestire questo episodio. Beh, guarda, in realtà è un episodio abbastanza fresco perché è successo proprio ad agosto in cui praticamente c'è stato uno spiacevole evento che mi ha riguardato in particolare e sono caduto dalla bicicletta perché pratico occasionalmente downhill, non so se conosci... No, non conosco, che cos'è? Dei tizi che si buttano giù dalle montagne. Diciamo che c'è un'alta percentuale, un'alta possibilità di rovinarsi. Non è come giocare a cricket di sicuro. E quindi, vabbè, sono caduto, purtroppo mi sono rotto due vertebre e una clavicola. Tutto questo è successo in un periodo abbastanza indaffarato e pieno di cose da fare per noi e per il gruppo. In particolare, appunto, stavamo scrivendo brani nuovi e portando avanti comunque il progetto e quindi è stata una cosa abbastanza spiacevole perché mi ha limitato a fare molte cose. Ho dovuto fare un video con un busto, immaginatelo come... è stata abbastanza spiacevole questa cosa. Quindi è un video che sarà probabilmente su YouTube o su varie piattaforme in cui a partire da oggi, se qualcuno dovesse guardarlo ascoltando dopo aver ascoltato questo episodio, puoi immaginarti con un busto. Sì, esatto. Attualmente adesso non è online, però sì... Non so se tra di noi si può dire di che canzone si tratta, oppure lasciamo il mistero. Lasciamo il mistero, direi, dai. Lasciamo il mistero. Aspettiamo ancora un po'. Ci sta, ci sta. Esatto. Dopodiché immagino tu ti sia un attimo ripreso da questo... Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi 100% tutto funzionante nuovamente. Come prima, come nuovo. Meglio. Come nuovo, come prima. Meglio di prima, con qualche cicatrice che poi fa anche figo, diciamo, ok? E quindi avete potuto riprendere... Dopo quanto tempo, diciamo, tutto quello che stavate facendo? Eh, il fermo totale è stato di quasi un mese. Ok. E poi pian piano ho incominciato, ho potuto incominciare a muovermi, a fare... Tra l'altro il mio periodo, diciamo, di degenza è durato fino... È finito praticamente quando poi io e Ale ci siamo effettivamente trasferiti a Milano, perché sì, dalla fine di quest'anno, cioè dalla fine del 2021, ci siamo trasferiti entrambi a Milano. Perché appunto, niente, per varie motivazioni che riguardano chiaramente anche la musica. E quindi è proprio finito nel periodo giusto in cui poi ho potuto aiutare Alessandro con il trasloco e trasferirci definitivamente a Milano. Ah, quindi dopo un mese che hai fatto l'incidente hai aiutato Alessandro con il trasloco? No, no, dopo più di un mese, no? No, 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 dopo due tre mesi. No, a parte che non mi ha aiutato così tanto, non è vero questa cosa, Mario. Sì, è vero, è vero. Allora... Ha fatto tutto da solo, è vero. No, comunque, esatto, è successa questa cosa e ha rallentato un po' tutto quanto ed è stato sorprendente anche per me andare a trovare quello che suona con me sdraiato nel letto come un paziente terminale, perché per... Quanto è, Mario? Una settimana? Non ti sei potuto proprio incalzare? Eh, due settimane. Due settimane dovevo stare proprio fermo immobile. Due settimane? Imprevedibile. Alessandro, invece, tu hai un'altra storia da raccontarci? Sì, ho un'altra storia che sa molto meno di soldato e sa molto più di sfortuna, maledetta sfortuna. Comunque, viviamo ancora appunto nelle nostre vecchie abitazioni in quel di Ivrea, in Piemonte, prima di trasferirci a Milano. Io avevo un incontro un giorno, dovevo avere un incontro con un autore di brani per lavorare appunto ad alcuni brani per lavorare alla composizione dei brani dei Santi Francesi con questo ragazzo a Milano. Io mi sveglio la mattina. All'epoca, quando stavo lì, avevamo due macchine, io e la mia famiglia, parcheggiate in strada sotto casa, no? Mi sveglio la mattina perché, chiaramente, forse anche un film in ritardo come mi succede purtroppo a volte, scendo perché devo andare a prendere la macchina per recarmi a Milano e cosa succede? Che vedo entrambe le mie due macchine praticamente distrutte sulla strada con una ragazza, 50 metri più avanti, con una 500, anche quella, mezza distrutta, che mi dice Eh, le ho prese. Allora, è stato uno di quei momenti in cui ti metti a ridere per non piangere perché non so se vi è mai capitata una cosa del genere a voi, però io mi sono svegliato la mattina e la prima cosa che ho visto è stata questa ragazza che per colpa di un ragno, a detta sua, ha completamente sbandato dalla strada e ha preso non una, ma ben due, ed entrambe erano le due mie macchine parcheggiate a bordo strada. Interessante, eh? A livello di sfiga è molto interessante. Eh, non è, non è, a quel punto io non credo di essere stato in silenzio per un minuto mentre lei mi parlava, guardando entrambe le macchine e cercando di trovare le parole migliori per chiederle come fosse possibile tutto questo e tra l'altro questo... Ma quindi, perdonami, tu hai sentito il botto o ti sei svegliato e hai aperto la serranda, la finestra e hai trovato questa scena? Esatto, è successo all'unisono, nel senso è successo tutto insieme, però io non ho sentito fisicamente il botto perché questa ragazza fortunatamente, essendo che anche una, era una mia vicina all'epoca, si è fermata dopo aver fatto la cavolata, no? Quindi io quando sono sceso, guarda caso, sono sceso esattamente nel momento o poco dopo che lei avesse fatto questo incidente, quindi, che ne so, 30 secondi prima lei aveva bocciato le due macchine e io sono sceso, l'ho trovata lì, che poi mi ha chiesto scusa, ma prima di chiedermi scusa mi ha anche detto, eh ho capito però sono parcheggiata in strada, quindi puoi capire come mi sono svegliato io quel giorno e con quale umore sono andato avanti fino al mio incontro con l'autore e niente, poi chiaramente si è risolta con constatazioni eccetera eccetera. Una constatazione amichevole. Esatto, molto amichevole, doveva essere molto amichevole per non incazzarsi. La giornata poi è andata liscia, l'incontro con l'autore è andato bene? Ma diciamo che se parte così qualunque cosa è meglio, comunque sì, è andata molto bene, non ho più avuto incidenti quel giorno, ne è bastato uno. Se non sbaglio c'era Woody Allen che diceva una cosa che riguarda più o meno questo argomento di cui stiamo trattando, qualcosa tipo se ogni mattina per colazione mangi una rana viva sei certo che a partire da quel momento niente ti può andare peggio. È vero. Ed è più o meno la stessa cosa. Esatto. Dipende tutto se ti piacciono le rani vive oppure no. Sì, è chiaro, magari qualcuno piace. La rana viva ti piace pure. Infatti, infatti. Esatto. Vuoi diciamo che comunque tra Covid e questi due eventi il mondo sta facendo di tutto per ostacolare il percorso di tutti i francesi. Esatto. Ma questo non fa nient'altro che, come si dice, potenziarci. Se ti piace UnControl, seguici su Instagram, ci trovi come UnControl-Podcast. Se sei un artista, un manager o un ufficio stampa e vuoi proporre un episodio, non esitare a inviarmi un messaggio sempre su Instagram. Se vuoi sostenere questo podcast, che si autofinanzia interamente, cercami su tpi.com, si iscrive con tre E. Anche se con un contributo minimo, potrai aiutarmi a far crescere UnControl, permettendomi di dedicargli tutto il tempo che merita. Ti ringrazio e ci sentiamo il lunedì prossimo con un nuovo episodio di UnControl.